Segnala con un click il degrado nella tua città. Nasce il portale migliorarezzo.it messo online dall'associazione Ora Ghinelli. Un sito che raccoglie tutte le segnalazioni e le idee dei cittadini che con una foto possono segnalare nella mappa interattiva della città il luogo della segnalazione e il problema riscontrato. Un esperimento innovativo. Si tratta infatti di uno dei primi esperimenti in Italia di eDemocracy. Il cittadino potrà così essere partecipe in prima persona del miglioramento della città e potrà far sentire la sua voce segnalando degrado, barriere architettoniche o più semplicemente problemi alla viabilità. Non si sono fatte attendere le segnalazioni da parte degli aretini. Tra le prime denunce la presenza di siringhe nell'area pionta, il totale abbandono degli scavi etruschi a San Bartolomeo e il degrado che ormai fa da padrone in piazza Guido Monaco, soprattutto nell'angolo con via Petrarca. Dove ormai, come segnala un cittadino, bottiglie, residui di cibo, maleducazione e risse sono all'ordine del giorno, davanti agli occhi di tutti. Da oggi quindi anche le denunce diventano social e solamente con un clic tutti potranno esprimere il proprio malcontento.